La Vibonese alla destra dei vostri teleschermi con la maglia rosso-blu, presente in porta Sarau, Bedogni, Cibelli, De Cristofaro, Calzolaio, Caterisano, D'Adalt, Cosenza, Gennaro Marasco, ex attaccante dell'Akregas, Campo e Spanò. Il Ribera in maglia bianco-azzurra alla sinistra dei vostri teleschermi, scende in campo con Lingua Glossa, Calbaruso, Legreci, Guardino, Noto, Lombardo, Montalbano, Scarpitta, Cortese, Licata, Erbini. Inizia il match, lancio lungo per Mario Erbini, sponda perfetta per Cortese, palo, palla sul fondo, Ribera vicinissimo all'1-0. Poi Mario Erbini per Roberto Cortese, ancora Erbini, che punta la porta avversaria, si accentra, poi Cortese nel corridoio, Cortese, non riesce a centrare lo specchio della porta, si rimane sullo 0-0, ma è un buon Ribera. Bedalt contro Noto, entra in area numero 7, poi Marasco, chiama l'azione, Campo la finta, De Cristofaro, palla alta sopra la traversa, brivido per il Ribera. E' la prima conclusione della Vibonese, Montalbano che è infortunato, riesce a servire Erbini, adesso è Licata che va sul fondo, cross interessante per Erbini. Montalbano, pallonetto, palla sul fondo, se avesse fatto questo gol con la contrattura muscolare sarebbe entrato nella storia del calcio riberese. Cosenza, avanza il numero 8, poi chiama a rimorchio da Dalt, pallone per Marasco, stop, la conclusione. Osserva il chilometro del direttore di gara. Attenzione, Scarpitta, ma non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo 0-0 tra Ribera e Vibonese. Allicata, Scarpitta, la piazza, palo, la palla buona ancora per Cortese, Rete! Tapin vincente di Roberto Cortese, Ribera 1, Vibonese 0. Al sesto minuto della ripresa i bianco-azzurri schiodano lo 0-0. Palla imbucata per Marasco, ancora Cosenza, cross basso, Marasco, Rete! Gennaro Marasco, l'ex-Akregas, pareggia e dedica il gol al figlio, nato da pochi mesi. 1-1, Ribera Vibonese, il pari di Gennaro Marasco, un gol bellissimo di rapina. Attenzione, Mario Arbini, il tiro, Sarao, la tiene lì. Finisce qui il match tra Ribera e Vibonese 1-1, con i gol nella ripresa di Cortese e Marasco. Grazie!